Caso IES, la responsabilità della Regione perché il depuratore di sua proprietà aspettava risolvere le questioni ambientali del territorio. La tesi del Governo nazionale, replicata da quello regionale, è a dir poco surreale e attribuisce al Tribunale di Roma la responsabilità di avere rimesso alla Corte Costituzionale la decisione riguardante la sede competente a pronunciarsi sui ricorsi presentati dal Governo e dalle industrie sulla disapplicazione da parte del giudice Palmieri del decreto interministeriale Urso Picchetto Fratina. Al Tribunale Romano viene rimpevorato di non avere esaminato il merito della vicenda, come a dire che se l'avesse fatto avrebbe accolto il ricorso del Governo e delle industrie dando torta ai giudici seracusani, tesi tutta da dimostrare, dalla quale però il Ministro delle Imprese Urso e il Presidente della Regione Schifani fanno discendere il rischio di un disastro occupazionale che colpirebbe 4.500 lavoratori e le loro famiglie il rischio è derivante dal presunto blocco della depurazione del reflu industriale da parte dell'IAS Improvvisamente il centro-destra ha scoperto l'indispensabilità del depuratore IAS mentre lo scorso mese il Commissario dell'Asi non aveva esitato ad attribuire alla Regione l'intenzione di disfarsene e il Sindaco di Melilli Carta, e non solo lui, aveva più volte dichiarato che la sua chiusura era inevitabile Il Presidente Schifani ora dichiara di essere in piena sinergia col Governo nazionale e continuerà a fare tutto ciò che è nelle proprie competenze per tutelare i lavoratori, le loro famiglie e il tessuto produttivo del territorio Quello che il Presidente Schifani dovrebbe fare è scritto nel decreto interministeriale Urso Picchetto Fratini che nonostante sia stato disapplicato dal GIP Palmeri non cambia di una virgola i suoi obblighi sia perché è il depuratore di proprietà della Regione sia perché aspetta alla Regione risolvere le questioni ambientali del territorio I magistrati siracusani aggrediti immotivamente da certa politica nei fatti non hanno bloccato neanche per un solo giorno il depuratore IAS che ha funzionato e sta funzionando regolarmente anzi, mentre la Regione non ha fatto in tutti questi anni un solo intervento di ristrutturazione le industrie a proprie spese, d'intesa con l'amministratore giudiziario stanno effettuando importanti opere di ammodernamento dell'impianto per migliorare la qualità della depurazione La convocazione da parte del Ministro Urso di un tavolo romano con i rappresentanti della comunità industrie, sindacati, sindaci e parlamentari potrebbe essere l'occasione buona per trovare soluzioni condivise ricostruendo il clima giusto per riscrivere le misure di bilanciamento tenendo conto delle osservazioni dei magistrati